Siamo particolarmente fieri di avere un ruolo di main partner e questa parola di partner è ancora più vera in questa situazione per la BIAF dove c'è una complessità legata non solo al contenuto delle opere che sono meravigliose ma anche al contenitore che le ospita. Stiamo parlando di un palazzo del Seicento, uno dei più bei palazzi di Firenze con le sue complessità che occorre tener conto quando si assicura qualcosa di questo tipo. I think the reason why you should not miss the Biennale is because the Biennale is the most important art fair in the world dedicated to all master painting, sculptures and works of art. This is an important year 2022 because it's the first edition after the pandemic. We postponed the Biennale one year, it was supposed to be in 2021, but we decided to do it this year. We have a fantastic selection of all master paintings dealers coming to the fair and we have the most important vetting committee that will value every kind of object before the beginning of the fair. So, you know, this is a museum for sale and I suggest to everyone to come to see the Biennale and no one will be disappointed.